Era stato Alessandro Ghinelli proprio nel nostro ultimo confronto televisivo prima del ballottaggio ad annunciare l'invito ad Eugenio Gianni, già eletto governatore, ad un appuntamento a retino per rivedere soprattutto la legge regionale sulla sanità. Oggi è il neopresidente della Toscana, arrivato ad Arezzo per l'assemblea di Confindustria e che si è speso fino all'ultimo nella campagna elettorale per la vittoria di Luciano Ralli a complimentarsi con il sindaco di Arezzo appena riconfermato. Le premesse sembrerebbero dunque esserci tutte per un rapporto quantomeno cordiale tra i due rappresentanti delle rispettive istituzioni ma agli opposti dei poli della politica. Ghinelli ha avuto una bella affermazione quindi io gli faccio migliori auguri di buon lavoro e troverà in me la massima collaborazione. Una cosa è quando siamo in campagna elettorale e lui naturalmente invitava la Ceccardi e io invece venivo a lavorare per Ralli, una cosa quando siamo istituzioni. Quando siamo istituzioni Ghinelli è una persona verso la quale ho stima, con cui ho collaborato il Presidente del Consiglio regionale, farò altrettanto da Presidente della Regione. Grazie.